L'IMBS a volte per le visite che deve fare qui a Sapri, che abbiamo raccolto le firme e quindi è stata aperta la commissione, le visite non riesce a farle perché ha difficoltà a far muovere i dottori da Salerno qui a Sapri e quindi abbiamo due o tre post mortem di cittadini che fanno la domanda e poi vengono chiamati dopo che sono deceduti e noi facciamo le pratiche di post mortem, per la telemedicina, io lo voglio denunciare ufficialmente, ci sono le apparecchiature imbacchettate che sono anni, non funziona la telemedicina, la telemedicina in effetti è H24, un medico di base viene chiamato a casa di Antonio Francesco che non si sente bene, in tempo reale ha l'ecocardiogramma, lo può fare con delle apparecchiature, però qui sono danni irrariali e nessuno paga niente, sono all'ospedale a Sapri che sono ancora imbacchettate, sono anni, l'ho saputo dire, sono rimasto sorpreso, ci sono soltanto due autisti per le autoambulanze e non possono stare a Sapri 24 su 24 perché due sono in pensione, quindi ci si vuole rendere conto di queste cose, poi c'è un fatto molto strano per quanto riguarda lo stand che viene messo solo a Vallo, a Sapri non lo fanno lo stand, la cardiologia cioè chi viene colto da imparto deve essere trasportato a Vallo, a Vallo c'è il dottor Aloia, il professor Aloia, bravissimo, l'unico che è titolato allo stand, se non c'è il dottor Aloia, l'ammalato viene trasferito a Debole e muore per la strada, ci viene detto è morto, no, siamo noi che abbiamo ammazzato quel poveretto che è morto, chi governa la sanità deve rendersi conto di queste cose qua, i soldi sono dei cittadini che pagano le tasse, quindi deve essere potenziato il pubblico, non dico a danni dei privati, si concilia, si concorda come fare, perché ci sono delle attività che in ospedale per esempio non si possono fare, però quelle cose principali dove c'è da risparmiare, Antonio, dobbiamo fare, altrimenti tra poco chi non ha il libretto di Assegnindasca muore sul marciapiede in Italia.